più si avanza più si ha l'impressione di tornare indietro è strano questo tu cammini vai avanti metti un piede dopo l'altro ma non puoi guardare avanti la testa è bloccata puoi guardare solo indietro e il curioso è che andando avanti un passo dopo l'altro senza fermarti mai senza mai immaginare che la testa è bloccata arrivi in fondo e finalmente ti accorge che il tuo andare avanti in realtà è stato un hai girato in circolo hai percorso una sorta di circonferenza per cui sì sei andato avanti ma in realtà sei arrivato dietro al punto di partenza solo che ti trovi per così dire alle spalle di te stesso di com'eri e dove eri quando sei partito e lì finisce il giro più vai avanti quindi più ti avvicina il sospetto che non è un percorso lineare il tuo che non ti stai allontanando se non temporaneamente illusoriamente lo sospetti perché andando avanti la tua testa è bloccata a guardare indietro comincia a intravedere qualcosa di sottecchi a percepire perlomeno il fatto che l'angolatura rispetto al punto di partenza cambia e se l'angolatura cambia il percorso non è lineare non può esserlo benché le tue gambe il tuo tronco sentano di procedere in linea retta e cioè che stanno andando avanti come sempre come dall'inizio la tua testa rivolta indietro comincia a dubitare naturalmente è soltanto un'impressione perché sia chiaro se io mi muovo così e tengo il collo così bloccato senza poterlo girare e intorno a me c'è il deserto tutto piatto tutto chiaro è una luce accecante e non posso essere sicuro di avere visto bene sono sicuro di me delle mie gambe del mio tronco sento che vanno avanti che procedono ma di quel che vedo con quella luce con quella sabbia bianca tutta uguale soprattutto con questo collo storto io non potrei giurare niente è per questo forse che a un certo punto comincio ad ormandarmi il perché del mio collo perché è girato indietro perché è girato se non fosse che a poco a poco la mia vista si è acuita e nel continuo sforzo io ho appunto sospettato che l'angolatura sia mutata la posizione del mio collo mi sembrerebbe del tutto naturale ovvero sono partito così fin dalla partenza il mio collo era girato evidentemente questa è la mia natura è giusto che io sia così attenzione il collo può essere girato in due soli modi a sinistra e a destra di cui le due antiche opposte a visione del mondo ma perché il mio collo è così mi domando dunque o se ancora non me lo domando comincio in ogni caso ad avvertire una certa tensione sento che tira che forse esiste anche un'altra posizione a dire il vero io non immagino minimamente che il collo possa stare così o così o anche solo così per il semplice fatto che io non so che il mio collo è storto cioè non mi vedo non posso vedermi io sono dentro per così dire talmente dentro che mi è impossibile evitare di mettere in rapporto tutto ciò che vedo o sento a una sorta di modello intimo a una serie di proporzioni istintive che io ritengo necessariamente valide per il fatto stesso che procedo che vado avanti torno indietro una cosa che ho trascurato che ho trascurato di considerare è che non sono solo non è poco cioè sono solo sono assolutamente solo non c'è essere o cosa al mondo che sia più solo o più sola di me se considero quel mio percorso il mio andare avanti che a poco a poco assomiglia appunto a un mio tornare indietro ma è anche vero che pur avendo la testa bloccata non mi è difficile vedere che anche altre persone stanno andando avanti esattamente come me o se non proprio esattamente in maniera così simile che io tendo a vedere in loro lo stesso identico processo lo stesso identico procedere di me che vado avanti questo è un errore è un errore perché abbandonandomi a una facile constatazione la somiglianza addirittura l'uguaglianza o quasi io a secondo mio istinto fallace il mio bisogno di parallelismo e cioè credo che ogni cosa che al di fuori di me sia proporzionale a me sia compresa in una scala naturale la cui unità di misura è l'unica che io posso realmente conoscere me stesso e dunque sono in errore non è sicuro ma è probabile molto probabile basta che mi muova di quel tanto e qualcosa mi dice che difficilmente il me stesso da cui pure non riesco a uscire possa fungere da modello di ogni cosa che sia modo forma proporzione unica però se anche altre persone o addirittura la totalità delle persone si trovassero in una condizione simile alla mia e non potessero quindi dare credito ad altro che a se stesse a qualcosa cioè che inevitabilmente si conforma con il loro se stesse io allora entrerei nel loro campo come loro nel mio in perfetta congiunzione con la testa bloccata a guardare l'indietro e il nostro reciproco vederci andare avanti per quanto viziato dall'errore del me stesso non sarebbe in questo caso né falso nell'usorio bensì semplicemente condizionato dalla posizione dal collo dalla posizione del collo posizione che è bene che me lo ricordi io non noto negli altri più che in me stesso perché nessuno mi ha mostrato che il collo che sia mio o degli altri potrebbe stare così oppure così e anzi ora io se mi è permesso lo tengo girato proprio in questo modo se mi è concesso ma solo per riposarmi solo per qualche secondo riparto io vado avanti un piede dopo l'altro la testa girata indietro intorno a me il cielo bianco la sabbia bianca di fianco a me altre persone che io intendo erroneamente la maniera di me stesso ma che forse forse entrando nel mio campo io nel loro intendono me stesso come un se stesse stabilendo in tal modo un canale d'ombra una intermittenza in quel bianco accecante io ne approfitto non posso negarlo un po ne approfitto e grazie a loro comincio a intuire una sfocatura a provare la vaga impressione che il mio ininterrotto procedere e cioè andare avanti in realtà poco a poco mi stia portando indietro per cui vado avanti continuo ad andare avanti e poi ancora avanti perché certo non posso fermarmi mi è impossibile e anche se nel frattempo l'impressione diventa sospetto e sospetto timore non di meno io mi sento andare avanti su questo non c'è dubbio io vado avanti non posso che andare avanti altrimenti non sarei me stesso il me stesso che procede va avanti è l'andare avanti che mi fa me stesso dunque vado avanti e tuttavia si rafforza in me a dispetto di me stesso l'impressione che io stia tornando indietro e che quindi l'unica cosa che realmente conosco nonché termine di proporzione universale il me stesso non esiste non esiste non esiste perché non va avanti e dunque non è me stesso è possibile questo o piuttosto mi sto sbagliando sto confondendo il me stesso vale a dire non il me stesso mi sta ingannando come comincio a sospettare ma io sto ingannando il me stesso di conseguenza anche me il me stesso di io il me l'io è così di norma non rispondo invece di rispondere elimino la domanda quando arrivo lì a immaginare due persone dove ne vedo una mi fermo perché è ovvio che sto mettendo in piedi una complicazione in forma di specie azione io e me stesso complicazione che cammina per conto suo e che passo dopo passo si allontana e più si allontana meno io la vedo e meno io la vedo più mi allontano da che sono qui adesso le impressioni sono due più vado avanti più torno indietro prima impressione mi sto prendendo gioco di me seconda impressione la seconda deriva dalla prima se elimino la prima elimino anche la seconda è semplice perché non lo faccio perché preferisco tenermi anche la seconda piuttosto che essere costretto ad abbandonare la prima visto che l'impressione la prima è arrivata da se non l'ho voluta io almeno non mi sembra dovrei fare uno sforzo per eliminarla e in questo sforzo potrei commettere un nuovo errore dunque mi tengo anche la seconda naturale anche questo potrebbe essere un errore ma se non altro l'ho già commesso non è nuovo non aumenta il numero dei casi basta riparto per l'ultima volta vado avanti un piede dopo l'altro sabbia bianca luce bianca altre persone canale d'ombra prima impressione seconda impressione stop no no in realtà non è stop io continuo penso stop ma continuo la testa girata indietro continuo la prima impressione mi dice che la testa potrebbe essere girata diversamente la seconda impressione mi dice che non so dove né come girarla e intanto continuo in circolo forse sì in circolo proviamo continuo vado avanti un piede dopo l'altro un piede dopo l'altro un piede dopo l'altro finché ecco mi sto arrivando no chissà perché credevo che arrivato in fondo completato il circolo avrei visto finalmente davanti invece no eccomi arrivo mi fermo e la mia testa è sempre qui girata indietro che cosa è successo la prima impressione mi dice che ho percorso un circolo la seconda impressione mi dice che comunque sono andato avanti la testa mi gira mi gira ma non si gira e io sono al punto di arrivo forse di partenza e nessuna delle due impressioni ha avuto la meglio ha sopraffatto l'altra una cosa la vedo però vedo che se davvero fosse un circolo potrei stabilire la partenza da un qualsiasi punto non c'è un inizio un'origine ma è un circolo lo è o non lo è ho bisogno di ripartire è fortissimo questo bisogno anche a costo di sentirmi andare avanti e nel contempo di nuovo dubitare di tornare indietro devo farlo molte volte questo giro se è un giro devo devo assolutamente e dopo molte volte la mia testa saprà come girarsi non sarà più bloccata chi mi dà la sicurezza nessuno eppure basta un ultimo pensiero mi è chiaro non posso ripartire da solo qualcuno o qualcosa deve farmi ripartire me e forse anche le altre persone la luce ancora bianca per ora la sabbia è ancora bianca sto fermo aleatoria di mario giorgi 2000 bianca di mario giorgi 2000